Il sindaco di Milazzo Carmelo Pino non è stato mai iscritto al Partito Democratico a stabilirlo la seconda sezione del Tribunale di Messina che ha accolto il reclamo presentato dal Partito Democratico. Il PD si era opposto all'ordinanza del giudice monocratico del 12 marzo scorso che, preso atto dell'annullamento delle primarie, aveva condannato il Partito a pagare le spese legali al sindaco Pino, escluso dalla consultazione nonostante sempre sostenuto di essersi iscritto online. Un'avvertenza giudiziaria che ha impedito la consultazione popolare dei democratici e l'utilizzo del simbolo che ufficialmente è stato assegnato al candidato a sindaco Giovanni Formica. Con la sentenza, i giudici messinesi hanno quindi stabilito che Pino si è limitato a mettere agli atti la copia di una tessera PD del 2014, ma non quella del 2015. Il Tribunale sottolinea che l'iscrizione diventa effettiva solo quando si ritira la tessera al proprio circolo per evitare che chiunque possa iscriversi senza controllo degli organi statutari del Partito. La sentenza del Tribunale di Messina fa una volta per tutte chiarezza sulla vicenda delle elezioni amministrative a Milazzo e su quella delle primarie e dimostra come non sia consentito a nessuno giocare con le regole di un partito come il nostro. Lo dichiara il segretario regionale del PD Fausto Raciti a Milazzo. Il PD ha scelto Giovanni Formica e le liste a suo sostegno. Spero che adesso sia chiaro a tutti, conclude Raciti, il quadro politico con il quale ci presentiamo alle amministrative della città. Chi si schiera contro Formica si schiera contro il PD, a prescindere dagli azzecchi a garbugli di turno.